Un vasto e robusto campo di alta pressione continua ad interessare l'Europa centrale e gran parte del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità. La situazione dovrebbe subire significative variazioni almeno fino a metà mese. Lunedì 9 novembre in Toscana sereno sulle province meridionali e sui rilievi, parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove per nubi basse, nebbia a trattedenza al mattino e dopo il tramonto nelle valli dell'interno, venti deboli occidentali con rinforzi sull'arciperago, mari da poco mossi a mossi a nord dell'Elba, temperature minime stazionari e un lieve aumento, massime in diminuzione nelle aree pianeggianti e collinari pressoché stazionari e montagne. Anche sul territorio provinciale da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 9, massima 16 gradi, in Versilie sul litorale minima 12, massima 18, in Garfagnane zone montane minima 6, massima 21 gradi, martedì sereno con foschie e nebbie nelle valli dell'interno e in pianura.